Il 17 maggio si celebra in molti paesi del mondo la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. In quel giorno del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò definitivamente l'omosessualità come espressione normale della sessualità umana, archiviando nei cassetti bui della storia quei dolorosi errori della scienza che per decenni avevano generato diagnosi cliniche immaginarie, cure ormonali dannose e le famigerate terapie riparative. A distanza di oltre 20 anni la questione LGBT si misura oggi sul livello di rispetto e di uguaglianza dei diritti che la società offre alle persone omosessuali e transessuali. Secondo uno studio dell'osservatorio europeo ILG, basato sulle legislazioni nazionali e sulle scelte istituzionali, gli stati europei che maggiormente difendono i diritti civili delle persone LGBT sono il Regno Unito, la Germania e la Spagna. L'Italia è al trentesimo posto, poco dopo Albania, Bulgaria e Lituania e appena prima di Estonia e Grecia. Siamo uno dei pochi paesi a non aver adottato una legge contro la violenza omofobica, eppure in Italia, secondo un recente studio di Gay Center, il 76% dei ragazzi omosessuali dichiara ad aver subito atti di bullismo o di discriminazione. Questo sicuramente è uno dei diritti più calpestati, meno riconosciuti, quindi questa giornata sottende a un buon lavoro che stiamo facendo insieme al tavolo LGBT. Proporremo da settembre una campagna nelle scuole contro il bullismo e l'omofobia. La pressione che la dimensione locale può fare verso il livello nazionale, verso il dibattito pubblico nazionale, politico nazionale sul riconoscimento delle coppie omosessuali e sul riconoscimento dei diritti degli omosessuali e dei transessuali è uno stimolo, una pressione molto importante. Vivere la transessualità oggi è un discorso molto ampio, anche perché le transessuali, specialmente qui nella città di Napoli subiscono violenze tutti i giorni. De Magistris, il primo sindaco d'Italia che riesce nei primi 100 giorni del mandato da sindaco di una grande città d'Italia a realizzare quello che gli altri hanno sempre o promesso e non mantenuto, oppure promesso e fatto in coda al mandato politico delle amministrazioni. La regione Campania, dalla città di Napoli, può imparare a fare politiche di pari opportunità che oggi ancora mancano. Le risorse strutturate alle quali abbiamo lavorato negli ultimi anni, che sono ancora bloccate presso il presidente della regione Campania, devono essere sbloccate per avviare azioni di contrasto alla violenza, all'omofobia e alla transfobia. Giovedì pomeriggio in piazza San Domenico Maggiore sarà allestito uno stand per illustrare ai cittadini il registro delle unioni civili, che il Comune di Napoli ha approvato a febbraio, e promuovere informazioni contro l'omofobia e la transfobia. Il Comune, dal canto suo, sosterrà una serie di azioni per la tutela della dignità e dei diritti, impegnandosi alla costituzione di parte civile nei processi a sfondo omofobico, aderendo alla rete nazionale per l'abolizione del reato di omosessualità nel mondo e promuovendo un progetto contro il bullismo omofobico nelle scuole medie e superiori cittadine. È notizia di ieri che quattro giovani iraniani rischiano la vita in Iran perché omosessuali, perché in quel paese essere omosessuali significa essere impiccati. Io credo che il Comune di Napoli debba far sentire la propria voce per dichiarare la città di Napoli terra di pace contro l'omofobia e la transfobia.